Bella a tutti lupe lupacciotti e benvenuti in questo nuovo video io sono MasterDegard come ormai vi siete imparati e ora voi vi stavete chiedendo perché ha caricato video di martedì e insolito si è vero ragazzi è insolito perché questo non è un video né di top top 10 scusate e né di gaming è semplicemente un video per dirvi che innanzitutto che è partito diciamo un progetto ragazzi molto tra virgolette progetto perché io e altri due ragazzi con canali youtube attivi che utilizziamo per passarvi a voi la nostra passione di video e di quello che facciamo e questi due amici che comunque sono amici perché li riconosco da tanto uno da 8 anni e l'altro da 2 anni siamo abbastanza diventati molto amici uno è cond 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 e poi vi farò dire da lui come si spronuncia il suo nome è un video di recensioni su film passate sul suo canale commentate e aiutatelo a crescere perché è veramente bravo fa un video molto interessanti per chi vuole sapere che vuole sapere le recensioni di un film che è uscito e lui ha visto l'altro è il nostro carissimo ormai conosciuto sul mio canale tutto hack anche perché tra noi due è il possessore di più iscritti posso dire e comunque perché ora siamo su questa pagina facebook vedete questa pagina facebook perché perché come ho detto prima è iniziato un progetto ragazzi io metto tra virgolette un progetto perché noi io almeno ho pensato di fare già video con tutti e due con questi due ragazzi perché tutti e tre abbiamo la passione di youtube di passare a voi le nostre gioie che proviamo nel fare video e di far vedere come posso dire cerchiamo di passare a voi le nostre passioni diciamo così voi comunque ragazzi parliamo di questo progetto il progetto si chiama voi vedete tre e tra ma sarebbe true arts perché true arts a parte perché ognuno di noi ognuno di tutte e tre ha una propria arte tipo io l'arte dei gaming possiamo dire cobb ha l'arte di fare recensioni su film per essere un grande appassionato di film e tutto hack ha la sua passione per diciamo hackeraggi e per far vedere agli altri come fare una certa cosa sul computer o come aggiustarlo posso anche dire così è partito questo progetto io li metto sempre tra virgolette progetto perché non è un progetto perché noi faremo semplici video su questo canale ora vi mostro solo una pagina facebook che semplicemente è questa cioè abbiamo caricato poco veramente pochissimo perché abbiamo messo una gif divertente messa da tutto hack che sarebbe questa qua non la vedete molto bene e poi l'intro l'intro è stata fatta da me cioè l'ho creata io non da zero però è stata creata da me da tutto questo questo è il nostro progetto questo è il canale facebook vi invito anche a passare sul canale facebook e ora andiamo direttamente sul canale youtube come vedete già abbiamo 5 iscritti e sul video del canale abbiamo 23 visualizzazioni ragazzi cos'è 3 arts è semplicemente un'unione possiamo dire una nuova crew del youtube italia possiamo dire così c'è un nuovo trio una nuova crew possiamo anche chiamarci così ma semplicemente siamo tre ragazzi con tutti e tre la passione di youtube e di fare video ci siamo voluti unire in questo sempre tra virgolette progetto per passare a voi la nostra pazia cioè la nostra il nostro amore di fare video e di divertirci perché noi ci vogliamo semplicemente divertire su questo canale crescere come come poco a poco sto facendo anche io sul mio canale youtube come sta facendo tutto hack come sta facendo anche comp io lo chiamo solo comp perché tutto il nome non lo so dire io vi invito prima di tutto a passare sui loro canali vi metterò anche qui sotto i link dei loro canali che sono questi qui e vi metterò anche il link del del progetto 3 arts non ci chiamiamo non ci chiamiamo scusate i 3 tra che non avrebbe senso ci chiamiamo 3 tra 3 arts allora vi sto facendo sempre in giro tutte cose in questo progetto sempre progetto semplicemente su questo canale caricheremo video dove siamo tutte e tre video di sfide fra noi tre che a breve dovrebbe uscire questa sfide una di queste sfide che dobbiamo registrare però io vi invito già a passare da ora a iscrivervi da ora su questo canale perché fra pochi giorni o fra poche settimane dipendo quando abbiamo tutto il tempo di registrare faremo questo primo video questa prima sfida e la metteremo sul canale io vi invito di nuovo a iscrivervi ai loro canali e a iscrivervi a questo canale e poi aiutarmi sempre come dico sempre a crescere il mio canale passerò molto del mio tempo su questo canale perché ci tengo anche io a questo progetto che stiamo portando avanti di unirci tutte e tre in un'unica crew perché io già da me sono come posso dire emozionato posso dire di essere emozionato di stare su V2V Italia ora non voglio girare su tutto su questo argomento vi invito solo a passare se volete aiutarci non mai per obbligo se volete aiutarci a crescere di passare su questo canale e di passare sulla pagina facebook ufficiale di 3Arts di iscrivervi sia youtube sia facebook di aiutarci a crescere e di di far di condividere questa questa idea questo progetto io lo chiamo sempre progetto di condividere questo progetto con i vostri amici questo è tutto questo volevo dirvi questo è 3Arts mi raccomando ragazzi condividete perché ci divertiremo molto su questo video faremo molti video moltissimi video io penso per la mia parte l'idea sarebbe fare un video di sfide perché sono un tipo che ama le sfide anche se perdo però mi piace sfidare specialmente questi due miei amici perché sono grandi amici vi invito di nuovo a passare sui loro canali tutto hack e cov link vi metterò qui sotto i loro link perché comunque ora siamo uno a più quindi ogni video che io farò ci saranno anche i loro link dei loro canali qui sotto in descrizione quindi ragazzi scusate un po' di raffreddura un po' di affanno sto per morire questa è la verità comunque passate su questo canale sto girando su la stessa cosa quindi ciao lupi ciao lupacciotti ciao lupi ciao lupacciotte io vi metto qui sotto tutti e tre i link anzi tutti e quattro i link anche della pagina facebook voi commentate condividete se volete aiutarmi condividete questo video con i vostri amici se volete mettete un bel mi piace che ormai è gratis un mi piace non si paga anzi facciamone da oggi sarà mettete quel fottuto mi piace ragazzi mettetelo tanto è a pagamento è gratis non vi costa niente quindi questo è tutto ragazzi questo è il progetto True Hearts noi ci vediamo in un prossimo video vi aspetto venerdì sera quindi non mancate sul mio canale venerdì e sabato sera noi ci vediamo in questi giorni ciao ciao pacciotti ciao ciao pacciotti e noi ci vediamo nel prossimo video bella ciao ciao Grazie a tutti.